Siamo alla quarta edizione del Presepe Vivente di Castilenti, organizzato dalla Proloco, da un'idea di una nostra collaboratrice della Proloco che si occupa della parte artistica. Senza un grande gruppo non si può fare niente, da soli non si riesce a fare niente. Noi abbiamo fortunatamente la collaborazione di tante persone che lavorano con il cuore, perché solo con il cuore si riescono a fare tante cose molto belle come questa. Anche quest'anno il 26 di dicembre, il giorno dopo Natale, con grossi sacrifici, questa mattina ci siamo svegliati presto e una grande squadra si è messa subito all'opera nel montaggio della scenografia e tante altre persone nella sistemazione dello stand. Comunque alla fine anche quest'anno siamo riusciti con pochissimi mezzi a realizzare tutta questa bellissima scena, questa bellissima rappresentazione del Presepe Vivente. Siamo la quarta edizione, ogni anno cerchiamo di migliorarci, ogni anno la Proloco cresce sempre di più, perché comunque cerchiamo di portare voglia di fare, voglia di fare, voglia di tenere vivo il paese, voglia comunque di portare avanti un discorso sociale, perché sempre stando insieme in mezzo alla gente il sociale cresce e la gioia di stare insieme è sempre più bella. Tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo!